Non ho mai visto in vita mia gli organi genitali di un'altra donna. I miei invece hanno un colore più rosso-porporo e marroncino. Quelli della generazione di mia madre ci insegnavano sempre che bisogna vergognarsi delle parti intime. Prima pensavo che i miei organi genitali fossero brutti, ma un giorno ho capito che la pensavo così perché gli altri ritenevano che dovessi pensarla così. Da allora ho ammesso che sono piuttosto funzionali, graziosi e a portata di mano. Sono belli, come diventa bella una persona che conosci bene. Ho incominciato a masturbarmi solo recentemente, dopo una lunga astinenza sin dall'infanzia. È stato difficile incominciare, mi sentivo egoista e un po' stupida. Fisicamente mi piace, ho ancora delle difficoltà psicologiche, mi è necessario fantasticare. Mi masturbo una volta alla settimana circa, con l'acqua del rubinetto della vasca da bagno. Sì, mi piace masturbarmi fisicamente, ma è poco che l'ho accettato psicologicamente. Prima che le donne incominciassero a parlarne, ero sicura di essere strana, perché ne sentivo il bisogno. Di solito mi masturbo due volte alla settimana, ho un tre orgasmi ogni volta, in circa un'ora. Mi piace masturbarmi fisicamente. Un tempo mi sentivo un po' in colpa, o frigida, psicologicamente, ma adesso non più. Raggiungo sempre l'orgasmo, da solo è più intenso, ma con qualcuno dura di più. Di solito, quando mi masturbo, ne ho otto circa, mi sentivo molto in colpa le prime volte che mi masturbavo. Sì, in tutti i modi. Ho avuto dei complessi psicologici per molto tempo, perché sentivo di sbagliare, ma era così bello che non volevo smettere. Quando ho letto che è una cosa naturale, ho incominciato ad essere un po' più rilassata, e ho capito di non essere strana o depravata. All'inizio pensavo che non andasse bene masturbarsi, perché sono stata levata così, e perché anche adesso nessuno ne parla. E allora immagino che tutti pensino che non bisogna farlo, ma personalmente mi piace, e penso che sia un aspetto naturale della mia vita. Io ho incominciato a sentirmi in colpa, perché mi masturbavo. Avevo sempre paura di essere sorpresa. Una volta a 19 anni, dopo essermi masturbata, pensai, non può essere feccato. Dopo mi sento sempre meglio, e non faccio male né a me né agli altri. Grazie alle nuove ricerche di psicologia, si è scoperto che soddisfa un bisogno fisico e psicologico, e che quindi è una cosa normale e naturale, dopodiché non mi tormentai più. Mi piace la masturbazione di tutti i tifi, ma non riesco ancora a superare la mia educazione a questo riguardo. Ho solo un orgasmo, perché mi vergogno ad averne di più, anche se probabilmente ci riuscirei. Mi ha insegnato moltissimo, soprattutto a raggiungere l'orgasmo. Prima pensavo che fosse una cosa sporca. Adesso so che avevo sorto marcio. Da allora ho imparato a godere molti aspetti del sesso, e sento che la masturbazione mi ha aiutata molto. Sono convinta che la stimolazione autoerotica è essenziale per la maggior parte delle donne. Potrebbe essere l'unico modo valido per conoscere il proprio corpo. È importante per trovare punti da stimolare, per scoprire il tuo corpo. Ora mi succede, a seconda delle mie voglie e della mia ricettività, di godere masturbandomi o facendo l'amore. Mi ci vuole sempre molto tempo per godere. Ho sempre bisogno della stimolazione clitoridea, ma ho l'orgasmo. E non penso più che mi possa piovere dal cielo. Me lo vado a cercare. Col tempo imparai che essere attiva nella vita sessuale non significava solo provocare desiderio e piacere nell'altro, ma anche prendere coscienza dei propri bisogni. Ma perché non dobbiamo toccarci? Perché non possiamo fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno per provocare l'orgasmo? Anche se dividere l'esperienza sessuale con un uomo può essere meraviglioso, perché per la donna questa partecipazione significa che l'orgasmo glielo deve procurare l'uomo? Perché la donna non può usare la mano per condursi all'orgasmo? Abbiamo la possibilità di procurarci il nostro orgasmo, se lo vogliamo. Possiamo assumerci il controllo della nostra stimolazione muovendoci contro l'altra persona o stimolandoci direttamente seguendo il metodo che usiamo quando ci masturbiamo. Anche se questo suggerimento potrà sulle prime sembrare strano, è importante per potersi masturbare con un'altra persona, perché si acquista il potere di procurarsi l'orgasmo. Non c'è motivo di pensare che procurarsi il proprio orgasmo non sia una cosa bella o così profondamente comunicabile come qualsiasi altra forma di sesso con un'altra persona, e forse lo è ancora di più. I tabù che ci intimano di non toccarci dicono in sostanza che non si deve usare il proprio corpo per procurarsi piacere, che non siamo noi le padrone del nostro corpo. Controllare la nostra stimolazione significa simbolicamente possedere il nostro corpo e questo è un passo molto importante verso la nostra libertà.